Ho visto un potenziale in te. Ho messo in gioco il mio onore sperando nella tua affidabilità. Non più uno sconosciuto tra noi. Ed è per questo che abbiamo una piccola sorpresa per te. Guardami quando parlo con te. Non è obbligatorio, ma vorremmo che avessi una certa familiarità con la storia e le visioni del terzo Reich. E no alla peggio! Si può sapere che diavolo sta succedendo. Ti investi insieme! Michael! Devo parlare con chi? Tu lo sai che cosa succede a chi si tira indietro? Lo so, ma non me ne frega un cazzo. Questa è la mia vita! Loro sono la mia famiglia, sono i miei amici! Le cose vanno bene, eh Lars? Dove stiamo andando? Te l'ho detto, è una sorpresa. Pensi ancora che sia sbagliato? Questa è la mia famiglia, è una sorpresa. Grazie a tutti.